Senatore, per quanto riguarda il governo, c'è la possibilità che si vada verso un conte terra e teme che Forza Italia possa entrare in una maggioranza ursula? Io spero che finisca questo teatrino osceno, perché le imprese piemontesi, italiane in generale, hanno bisogno di certezze, di lunga scadenza, non di governi fondati sul tirare a campare su quattro senatori in vendita, quindi hanno votato ieri in Portogallo, votano il prossimo mese a Barcellona in Catalogna, votano a marzo in Olanda, in Israele, è meglio investire due mesi per ridare la parola al popolo italiano che non tirare a campare per due anni, quindi non vedo come questo Parlamento possa inventarsi formule diverse. Noi come Lega siamo già al domani, alla ripartenza dell'Italia, sperando che nel frattempo sui vaccini il governo non combini troppi pasticci. Grazie a tutti.